Eleonora Giorgi in lacrime. La terribile notizia di pochi minuti fa. Purtroppo devo fare. I fans commossi. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video, ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Eleonora Giorgi ha condiviso con i suoi fan gli sviluppi della sua lotta contro il tumore al pancreas attraverso un video su Instagram. L'attrice ha affrontato con coraggio la terza sessione di chemioterapia e, al momento, si sente piuttosto bene. Nonostante la sua determinazione a continuare la lotta, ha confessato di essere spaventata dalla situazione. Nel suo aggiornamento, Eleonora ha dichiarato. Sto molto bene. Domani faccio la terza chemio. Sarà forte, ma si lotta. Sono anche un po' spaventata. Ma la voglio forte perché voglio assolutamente raggiungere l'obiettivo di ridurre questo maledetto tumore e potermi operare. Ho un po' paura. Questa confessione ha sorpreso i fan. Abituati a vederla come una figura forte e determinata. Tuttavia, il sostegno dei fan è stato immediato e numeroso. Dopo la terza chemioterapia, Eleonora Giorgi dovrà attendere un po' prima di poter procedere all'intervento chirurgico. I medici mirano a ridurre le dimensioni del tumore attraverso la terapia prima di procedere con l'asportazione chirurgica. La sua forza e la determinazione nel combattere la malattia continuano ad ispirare molti. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.